buongiorno ben ritrovati a voi tutti cari amici fan dal vostro Nicola De Lucia sono qui per parlare di una grande e bella partita del campionato di Serie C italiano giunta la sua giornata a 25 Monopoli Bari giunta al risultato finale di 2 a 2 dopo il momentaneo 1 a 1 del primo tempo con i gol di Andenucci per il Bari e di Fell per il Monopoli nella ripresa subito momentaneo vantaggio dei Monopolitani al 53esimo con Jefferson il Bari li raggiunge con Sabione al 57esimo pareggio quotato dai bookmaker 2 a 93 per quanto riguarda la classifica praticamente sono appaiate a distanza di soli 3 punti Bari e Monopoli il Bari è secondo a quota 51 punti e il Monopoli terzo a 48 entrambe provengono da tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite in attesa della partita della regina di questa sera il Bari sarà impegnato il 16 febbraio in casa contro il Picerno che naviga in brutte acque zona play out a quota 26 punti sedicesima posizione mentre il Monopoli 15 febbraio si regherà Teramo Teramo settimo in classifica quota 37 punti bene chiudo concludendo dicendo appunto tra Monopoli e Bari finisce 2 a 2 ciao